Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale di Niner, non l'ho potuto portare a The One e mi dispiace io è fritto, abbiamo trovato questo all'avvio, questo è il primo avvio di Final Fantasy Dissidia Il mondo di Dissidia ti Lo è superato, Kupo Noi ci ci si chiama, come se ci si chiama, comenta Non siamo più avanti, ci si chiama, ci GPS Comunque è un gioco da combattere Non ne ho di bisogno Facciamolo senza Tutorial Usa le memorie Comunque è una campagna Una storia dovrebbe essere Non si può registrare Monde escorso dall'avvento di un conflitto Non si può schippare il filmato C'è malvagio e buono Dalle battaglie Comunque non sono un amante di Final Fantasy Infatti non so chi sia Ma questo ti fa vedere solo qua Scena bloccata Vabbè lasciamo stare la scena bloccata per ora Concentriamoci su una battaglia Facciamoci rompere il SD Perché si Siamo scarsi Ragazzi ve lo ritorno a ripetere Chi vuole Dei video speciali Mi dovete Contattare su Whatsapp Perché io nei commenti Non conosco i personaggi Che velo giù Vediamo la ragazza bella Vediamo questo Il confronto con Comunque il confronto con Dragon Ball Non si può fare secondo me Perché praticamente sono dei giochi diversi Non ha senso andare a fare lì Il confronto Anima di Bronzo Nel UPS Prima gioco Primo avvio con voi in diretta Scusate Se ci sta tanto Comunque non posso skippare Perché ve lo volevo fare vedere Siiii Fatto ragazzi Come va Che 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 una buona accion vi giuro io queste cose non le capisco non so che cosa sia ah ma siamo 3 contro 3 si seccano comunque le registrazioni sto telefono lo devo spegnere l'ho detto 3 miliardi di volte non lo faccio comunque nooo fantastico ragazzi fantastico gioco anche se non sono un amante della saga ragazzi è fatto molto diverso questo gioco i combattimenti sono in stile budo kaiden kaishi questo è lo stile non so che cosa sta succedendo noi siamo contro i rocchi comunque fra dragon ball questo ragazzi questo è un gioco molto diverso ci sono i classi di cpu sempre solo abilità speciale non conosco questo gioco molto bene ci hanno uccisi siamo tornati in campo vabbè ci sono delle abilità da scoprire mamma mia ragazzi alla fine sembra un gioco alla fine sembra un gioco nuovo da scoprire molto diverso da dinamiche nuove mi sembra non è un classico picchiaduro magari si devono conoscere bene i personaggi e tutto non so che caldo sta prendendo mamma mia mamma mia oh che ragazzi abbiamo vinto abbiamo usato un'abilità speciale aspetta Comunque devi conoscere bene i tuoi personaggi prima. Qualcosa comunque sia un po' convenzionario è il tempo che vi ci abituate. No, questo no. Hanno vinto no. Non vinceremo no. Speriamo. Sono arrivato al sesto. Comunque. Ragazzi questo era il primo video, il primo avvio sul Final Fantasy Dissidia. Gioco molto complesso, dinamiche molto complesse. Non so cosa ci faremo ragazzi, capace ci faremo direttamente all'online e ci butteremo lì nella mischia e faremo qualche gioco online. Comunque ragazzi noi ci rivediamo qui in un prossimo video, ditemi cosa volete fare di Final Fantasy Dissidia e niente, noi ci rivediamo qui ragazzi con un nuovo video. Grazie a tutti per avermi guardato e seguitemi su Facebook, su Twitter, su Instagram, su Whatsapp, su Messenger e inviatemi messaggi al profilo privato di Ninerdo Ufficiale. Comunque ragazzi, cosa dire, c'è tanto fuoco sulla legna, faremo video epici, faremo battaglie, faremo di tutto, comunque cercatemi su Whatsapp. Grazie a tutti, al prossimo video.